Mi dica signora, cosa l'affligge? Il marito si comporta in una maniera troppo strana, sono preoccupatissima. Può essere più specifica signora? Ma fa delle cose, tipo delle cose. Ma che ti porto la colazione a letto? Quindi devo prendere il latte, la carta di gel... Parla da solo, muove le labbra. Come dici? Poi fa delle facce, fa delle smorfie. E l'ha fatto violenza? No, solo contro se stesso. Mi passi le uova? Fa delle cose senza senso. Ma chi la rotta? Perché sono tutte rotte? Come se avesse dei tic nervosi. Ho la soluzione signora. Suo marito ha dei tic toc. Le metta un telefono davanti e vedrà che tutto prenderà un senso. Non ti conosco e già sento che ti amo. Saluta a tutti che adesso ce ne andiamo. E, a, 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 a Grazie a tutti.